Siamo nel Museo archeologico di Locri, un'iniziativa che già da anni si sta appalesando di grande interesse e quella della realtà insita nell'arco dello stesso museo. Non è soltanto un luogo dove possono essere ammirati reperti di varie civiltà di grande grandezza ma come nel passato, anche nel presente, alcuni prodotti che si trovano in questo parco archeologico trovano la propria attinenza e quindi parliamo di un sistema ambientale, biologico e nel caso in specie è quello delle arance. Queste arance che sono state sistemate e collocate nel parco oggi trovano anche un momento di grande riflessione, vengono ad essere vendute e il prodotto sarà utilizzato per il recupero, il restauro, il risanamento di qualche reperto di grande importanza. Sì, dunque la iniziativa le arance nel parco ormai dura da qualche anno e siamo, devo dire, molto contenti di questa idea avuta tutti quanti insieme per il parco e il museo archeologico di Locri perché giustamente come lei ha sottolineato non si tratta solo del museo che contiene i reperti da Locri e dal suo territorio ma il museo ha anche un parco che documenta esaustivamente che cosa fosse la città antica di Locri e Pizzefiri e che è inserita in un contesto paesaggistico che non va assolutamente sottovalutato. Infatti il parco presenta delle piante tipiche della nostra vegetazione mediterranea e naturalmente anche le arance e le piante. Allora è nata questa idea insieme all'associazione Sidus Club di promuovere la vendita simbolica naturalmente delle arance perché noi sappiamo bene che l'arancia è un frutto che viene venduto con facilità, è sempre presente sulle nostre tavole e anche nella Locri. però ripeto ha una valenza simbolica perché vuole coinvolgere il pubblico nel concetto di salvaguardia di valorizzazione e di tutela del patrimonio. Noi quest'anno oltre al Sidus abbiamo avuto un'altra serie di associazioni che hanno collaborato ma soprattutto abbiamo avuto un apporto validissimo e una risposta devo dire entusiasmante grazie all'attività dei servizi educativi che ringrazio per il grande impegno quotidiano che mettono nell'attività diciamo del nostro museo un supporto validissimo con le scolaresche e oggi è presente la dirigente del scuola che ha diciamo realizzato questo meraviglioso albero che devo dire devo fare loro i complimenti perché noi siamo abituati all'albero con le stelle, le palline di vetro, le palline decorate. In questo caso i ragazzi con le loro insegnanti hanno pensato molto bene di decorare questo albero con frutti della terra, con frutti comunque della terra quindi è ancora una volta un richiamo, un segnale di attenzione che tutti vogliono dare gli educatori scolastici, le associazioni e le istituzioni, in questo caso il museo archeologico di Locri nonché Polo Museale della Calabria, quindi una richiesta di maggiore attenzione verso il paesaggio e verso il nostro patrimonio. La quinta classe dell'Istituto Comprensivo Pasquale Alvaro ha partecipato all'iniziativa attraverso un progetto presentato nella nostra scuola che è a scuola con gusto che vedrà i ragazzi protagonisti di un percorso di riepropriazione di quelle che sono le radici e le tradizioni alimentari del territorio. L'altro giorno una delle tappe è stata la merenda con le marmellate prodotte proprio da questo meraviglioso parco che ha visto anche collaborare tutte le famiglie della stessa scuola. È importante e fondamentale che i ragazzi conoscono bene e siano consapevoli di quello che è tutta la produzione del territorio e gustare i frutti della nostra terra. Il SIDUS che io rappresento è Dianne che collabora con le iniziative del Museo di Locri che con la sua direttrice Rossella Agostino, con le sue continue iniziative, è riuscita ad aprire il Museo di Locri alla gente, quindi non più un museo chiuso, ma un museo fruibile e da gente comune. Ora noi collaboriamo da anni anche perché gli obiettivi del SIDUS su club sono in armonia con quelli del Museo di Locri che mirano alla valorizzazione del territorio della Locri dalla scoperta sempre di cose nuove. Noi ci pregiamo di questo. Devo dire che ormai sono diversi anni che noi collaboriamo su diverse attività col Museo archeologico di Locri e questa è una delle tante manifestazioni. Abbiamo utilizzato i prodotti della terra, della nostra terra, per adobare l'albero perché riteniamo giusto riqualificare il nostro territorio anche da questo punto di vista e ringrazio le famiglie sempre per la loro grande disponibilità.